ok vabbè sei pronta per avere questa roba si o no? no mo ho l'inventario pieno aspetta ma che cazzo però muoviti cioè ma guarda quant'è figlio il mio personaggio guardalo ciao a tutti ragazzi sono silverdx in questo nuovo video sono qui a giocare con salve sono tornata sono viva si di chi sei dillo dillo chi sei c'erano 87 compagni si facciamo sto dancio di merda ma dobbiamo spiegare che stiamo giocando a elsewhere che la gente se n'era dimenticata da quanto tempo non registriamo? da settembre da settembre che cazzo dici forse un po' di più no no da settembre si mamma mia che cazzo di personaggio c'hai? sempre lo stesso solo che modificato perché faccio laggate infernali della madonna comunque che vuoi action eh action ricordiamo si ma come cazzo che il mio personaggio è così fio? dillo dillo che sei salito dei grassi no sono salito di classe a livello 42 mamma come lag e che palle eh che cazzo vuoi? qua non c'è linea oggi proprio mamma mia che bello amo ehi dimmi quello fa un favore quello fa un favore dimmi un pochettino più allegro e che cosa devo fare amo? sinceramente ultimamente sei smorto sei smorto eh lo so mamma lo so però che cazzo vuoi? allora rianimami tu fammi tu come ti rianimo? eh lo so mamma che cazzo vuoi? poi non posso nemmeno urlare che se no non lo so perché scende il microfono e nello stesso tempo eh ah fai vedi che c'è un fantasma qua volevo dire nello stesso tempo poi ti rubo la scena a te e poi non e poi sei troppo alta la mia voce così poi action lagga quando parlo io perciò è meglio che dico così ma come? attenzione che cadono attenzione che cadono boom lo sapevo io mi scuso già da ora per la risoluzione qua ma che cazzo volete? eh il suor non si fa registrare che cazzo volete? uh prendilo l'hai preso? cosa ho preso? il coso dei cuori la di san valentino ma quello là già ce l'avevo già l'avevo preso prima no che mostro ah dille alla gente che cosa è successo ai nostri personaggi cosa hanno avuto? escono i cuori attorno spiega ah si ci siamo sposati si no non ci siamo sposati ci siamo fidanzati no era matrimonio era matrimonio vabbè vedi che qua c'è un arcimago se lo vuoi battere poi abbiamo imparato a shoppare nel gioco perché siamo degli stronzi maledetti bastardi dov'è? dov'è la scuola? vincere l'ho distrutto l'ho distrutto vai là dietro che c'è un vice che ti aspetta uno che mi aspetta? dove sei? uh questo è amico mio questo è il mio grande compagno guarda il migliore è questo oh che distruzione che dio ma la voce del mio personaggio che non ti può entendere? eh ma poi si entrano le voci dei personaggi un po' troppo alti sinceramente quindi hanno un po' fastidio prendi questo ok ho capito che devi prendere questo ah facciamo vedere che ha shoppato ha fatto i capelli neri al personaggio suo la stronza il mio personaggio quando c'è la crash potere si trasforma in mezzo giallo mezzo rosso oh che cosa bella tutti potenziati siamo mamu mo ti ricordi il percorso qui? o te lo devi insegnare? no 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 spero di ricordarmelo so che non si vede ragazzi però sopra di me c'è un pupazzino se così possiamo dire ah quel coro della neve è insignificante quel coro no hai qualcosa la fa ti dà un po' di potenza cioè immagino aspetti che mi hanno scansato se stronzo no dove sei? dove sei? dall'altra parte sto distruggendo non ti preoccupare ecco distrutti clear mo lo sai fare sta parte? no 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 aspetta aspetta non perdere tempo veloce ah qua sei ok dai dai che siamo quasi arrivati dai non perdiamo tempo oh mio dio come abbiamo spaccato i culi cioè guarda che potenza spacco io dillo tu bellini i nostri pori belli aspetta io vorrei spiegare anche alla gente perché stiamo facendo hellsword sinceramente molti si sono lamentati dopo il blocco mio del canale così via che sono diventato troppo moscio come ha detto la stronza qua che smorto madonna pare che ti ho mosso i atto traduzione che è morto il gatto no non è morto nessun gatto vedi che io lo so se me lo devi tradurre a chi ci segue non a me è appunto era per quello la traduzione io l'ho capito però aspetta no non mi ha morto nessuno tu mi hai morto ti è morto no non è morto è morto è addomisciuto vai amore non ci sto seguendo proprio te lo giuro te l'ho detto che si è addomisciuto non ce la faccio più e poi ci sta sta laggata del cazzo non muori coglione non muori mamma mia com che cazzo fa che cazzo sai l'arcima faccio boom boom davide il tuo uomo animale oh qua sotto dovrebbe sta qualcosa giusto giusto non era quasi no ho sbagliato ho sbagliato eh si abbiamo capito che deve prendere questo prendi questo no è una cosa incredibile solamente sento la tua voce stranamente vi vi un casso questo lo distrucciamo come niente pericolo amore quando ti avvicina alle mie mutande prendi questo eh eh ci sta ci sta che cazzo fa? ma do le laggate che fa sto gioco cioè prendi questo prendi questo mu la mia pancia ha brontolù oh deve mangiare il tuo pezzo eh si perchè figlio non gli ho dovuto mangiare per quanto quanto che cazzo si tuffa? si tu sta rotolando ginnastica rotolante bellino ma è possibile che ancora non l'abbiamo ammazzato? ma perchè sta laggando? ecco perchè è la voce del tuo personaggio proprio si che sexy eh tu rili ok l'abbiamo distrutto ce l'abbiamo fatta così moci siamo cioè non sono solo oh che cazzo? ha cambiato capelli il tuo personaggio perchè ho la trasformazione eh vabbè che cazzo? togli i capelli e sono tornata normale eh che cazzo eh voglio anch'io un personaggio che cambia capelli ovviamente io baggata dentro di te si che bello guarda il mio spadone ehi il mio spadone della mia ehi facciamo un altro cazzo di dungeon no che carino che cosa? una cosa di san valentino ah mo l'hai visti che cosa bellina ehi io ancora non ne avevo senti avviamo dungeon facciamone un altro facciamo uno di besma dai no si no ma com'è? lago di besma che bello perchè? perchè sono fantastici quelli di besma lo dovresti sapere no? no 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 amoo è arrivata la fantastica isha? che cazzo ne so cosa dire io vabbè mi preoccupo con determinati momenti ui comodo muu comodi comodi no mi mancavano che cuccioli madonna mia no ma che cazzo sto facendo guarda ora sicuramente ci sarà un certo anonimo che non voglio nominare perchè è che si commenterà il video scrivendo bellissimo video come al solito come al solito non ho ancora capito perchè bene bellissimo video va bene eh almeno dice che ho fatto un bel video no ma c'è si quello si è giusto solo che secondo me mi prende per il culo cioè lo dice ogni cazzo di video anche secondo me però va bene lo dice ogni cazzo di video lo dice secondo me nemmeno guarda può essere che guarda il titolo uuu bello bellissimo video ahihihi ahesh ish non lo puoi sapere la gente cosa pensa ma questo è giustissimo oh minchia devo caricare un video minore di quindici minuti stè pare finiccelo subito sto大哥 me piace distruggi tu minore di quindici minuti vaffanculo io quanto siamo? 8 minuti cosi mi pare eh ahm non lo so non sto vedendo vene ci sono rimasta ci sono rimasta bloccata che cazzo e ero rimasta bloccata chè, adesso sono verde purtroppo città mutando il mondo e i tuppi questo lo so la strada non ho sparaflesciato di fuoco come si c'è questo un colicomo di madonna conturino